Fagioli all'uccelletto Anche se ancora non siamo nel pieno clima autunnale, voglio proporti questo piatto che riscalda il cuore. Per prima cosa verso un filo d'olio all'interno della pentola. Ho la cipolla tritata finemente, la ricetta originale prevede l'aglio, ma come pensai io non lo digerisco, quindi ho preferito sostituirlo. Le spezie ed i filetti d'acciughe, non presenti né fagioli all'uccelletto, ma che secondo me ci stanno molto bene. Tu naturalmente puoi bypassare questo passaggio. Lascio imbiondire la cipolla, dopodiché inserisco anche la polpa di pomodoro ed il rametto di salvia, che ahimè non avevo. Mescolo, copro con il coperchio e lascio cuocere fino a che il sugo non si sarà leggermente ristretto ed incomincerà a sovbollire. Poi aggiungo i fagioli lessi in scatola che ho sciacquato sotto l'acqua. Copro con il coperchio e termino la cottura per 5-10 minuti. Mi raccomando, il sugo non si deve restringere più di tanto. Non so te, ma io amo i legumi, in particolar modo i fagioli insieme ai ceci. Mi sono sempre piaciuti e questa ricetta tipica toscana direi che è perfetta per le cene invernali.